Sì, 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 sì. Allora il prossimo Mi serve Questo qua Andiamo Che poi arrivano solo in certi momenti Una di averci pazienza e girare un pochino Oh 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 C'è sta paduta Allora Da qui Allora da qua da qua Proviamo verso qui Poi vediamo In onore della sua immensa fortuna E in particolare Deve essere da questa parte Ehi Dico Perché fate così Ma siete agile come una scimmia Vero Allora Deve essere da questa parte Ma il punto è preciso Perché non è solo una questione Di posizione Ma anche di tempistica So bastardi Lo sbucano fuori Quando voi arrivate sul posto E se ci siete voi Allora lo sbucano fuori subito Però sono sicuro che è qui Potete anche farvi incidere Brufoli Pustole Cisti Ma chi è che sceglie di essere strangolato? Va Eccolo là Vedi non compaiono subito Quando noi decidiamo Cioè qua ci siamo passati E non c'era E poi Risseminiamo così No 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 Perfetto Che tecnicamente L'avete ucciso Allora due ci siamo Quindi fino a qua Ci sono arrivato Adesso Pazienza Dobbiamo prendere il terzo Questa qua no? Sì sì l'ho visto Mannaggia a lui Arci d'ergolina E finché facciano attenzione Nel rimuovere mattoni e marmi Dalle antiche rovine La settimana scorsa È crollata Ah ma Allora quando guarderete questo video Se non è velocizzato È perché sto registrando Calla playstation Quindi Capirete perché non è velocizzato Allora dove sta qua Ho un stop Preciso Preciso Neanche di questo Ovviamente L'obbligazione Perché il bastardo Sbluca fuori Dal nulla Vediamo un po' In tutto ciò Ricordatevi di guardare Gli altri video Perché non ho solo questo Sia per Assassin's Creed Sia vi serve per God of War C'è una guida completa Tutte le Valkyrie rotte Eccolo Tutte le Valkyrie rotte Senza subire un sole colpo Raga Al massimo di più rotta Le Valkyrie No damage Come dicevo Tutta la guida E poi Ti altri Vieni Vieni Picchiami Guarda il paraculo Oppela Mi dispiace Va che peccato Il terzo è andato In onore Mi ricordo preciso Dove stanno In particolare Degli enormi profitti Attesi Dai prestiti Concessi Alle famiglia In teoria è morto Però vabbè Facciamo finta Che non sia morto Allora Vicino alla cosa è in fiore Un altro stava Tipo da queste parti Non so preciso dove Proviamo Comunque dicevo C'è tutta la guida Di God of War Ci sono Per chi è interessato I manga Trovate I video Di dove Io vado Dove io reperisco Varie varie Ante Non sono più ritrovabili A chi potesse interessare Io lo dico Perché nel canale c'è Per chi invece È solo specializzato Nella zona gaming Basta che guardate Nelle playlist E vi orientate un pochino L'account è nuovo Diciamo Cioè comunque Sto Iniziando A breve A fare guide serie Quindi Iscrivetevi Che Così almeno Io aiuto voi Voi aiutate me Surprise Insomma Da foca Tutto ciò Continiamo Ci serve Trovare il quarto Allora Vediamo Dove cazzo Dovrebbe essere Da ste parti Che come vedete Si mettono un po' Isolati Non è che stanno Al centro Dell'attenzione Di tutti All'aspettate Questo Ah eccolo qui Sono sempre vicino All'acqua E quattro vanno E poi il quinto Andiamo a prendere Il quinto Facciamo col cavallo Che facciamo prima Dato che tanta vita Non può essere velocizzato Vai vai Ma almeno io non ho un pc Quindi non mi posso mettere Vedamente a velocizzare Però la buona volontà C'è nello stesso Gli ammazzerò Tutti Bravo Mi conosce il tizio Levatevi dalle palle Qua è chiuso Te pare Mannaggia It's me Mario Ok Devrebbe essere qui Qui vicino Non troppo lontano Da qua Non aveva sicurezza La devo controllare Che Non è che sia proprio Sicurissimo Di questo Qui Dove si trovasse Non sono proprio Sicuro 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 Però dovrebbe essere Un attimo Dove si trovasse a me guarda che siamo che stavamo e no dovrebbe essere qui giriamo un po e poi almeno uno faceva rumore questo non lo sento perchè anche se vi do la posizione non sono soddisfatto finchè non posso farvi vedere preciso dove sia adesso continuando a osservare qui se non lo vedo mi sposto a quest'altra parte ma perchè non ti fai i cazzi fuori non ho mai visto nessuno niente non li ha fanno farsi i cazzi fuori dove è sto ultimo bastardo si romperà un osso quell'idiosa vede bene chi ride ultimo buona giornata affascinante ma se me lo sposto un po' più sotto che cambia perde palla perchè deve sta qua lo stanno vicino a dove è l'acqua quindi il male causato da quel figlio del demonio è riuscito a portare il terrore persino fra gli uomini muscolosi merita la morte subito non abbiate dubbio alcuno sulla natura di questo assassino è un uomo spregevole e malvagio in cerca di vittime innocenti come prima io poi ho girato parecchio e non era sbucato quindi sicuramente sbucherà fuori e uno farà porca pautta bastarda ma un po' di sbuca fuori prima dove sei? e ciò? ma dov'è questo bastardo? ah ecco qua eh ci sono passato prima e non c'era quindi vedi è proprio un po' random sti maledetti ecco vai a fare choke slam ohhhh tutti e cinque trofeo vinto tragico media lo finisco subito questo video perchè è già durato troppo ma non ci posso fare niente questa cosa è così cioè è random eh però almeno sapete la posizione precisissima proprio così proprio vissuta così un po' più precisa di così non potevo essere e se il video vi è stato d'aiuto like registrateli e fate finta che vi do un bacione ciao